Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare della Codonopsis Pilosula o Dang Shen, un importante rimedio di agopuntura tradizionale cinese che viene associato spesso ai trattamenti in agopuntura. Mi chiamo Fabio Farello e mi occupo di medicina naturale. Aiuto i miei pazienti a migliorare o ripristinare la propria salute attraverso sistemi di cura non invasivi. La Codonopsis Pilosula o Dang Shen appartiene alla famiglia delle campanulacee. Il rimedio fitoterapico è ricavato dalla radice della pianta. Secondo la tradizione cinese, Dang Shen appartiene ai medicamenta Supplenziaki, volgarmente definibili come tonici. Il comportamento termico della radice è neutrale. Il sapore è dolce e le orbite di riferimento sono l'orbita funzionale Milza Pancreas e l'orbita funzionale Polmone. Secondo tradizione questa radice implementa il Qi e sostiene le energie del Terra. Dunque le indicazioni per Codonopsis Pilosula sono, secondo medicina tradizionale cinese, il luoto della orbita funzionale Polmone, la carenza generale, del Qi e il luoto dell'orbita funzionale Milza Pancreas. Il rimedio invece è controindicato in caso di Yang epatico che batte in alto, mal di testa, lacrimazione o irritabilità. E' altrettanto controindicato il rimedio in caso di Calor Humoris, la loro mucosità infette. Codonopsis Pilosula o Dang Shen, è stato altrettanto studiato secondo tecniche moderne. La farmacologia, per descrivere l'azione di una pianta medicinale, ne esamina le singole componenti chimiche. Codonopsis Pilosula o Dang Shen contiene polisaccaridi, saponine, amminoacidi, la perlolirina, composti azotati, triterpeni, steroli, oroxilina, oli volatili e minerali in tracce. Sono stati evidenziati precisi effetti alla somministrazione di questo rimedio. Codonopsis è uno stimolante del sistema nervoso centrale, aumenta la resistenza fisica, dunque è un adattogeno fisico, psichico e mentale. Ha attività antinfiammatoria, è un immunomodulante, è un antidiabetico, è un epato protettivo, indicato soprattutto in quei casi steatosici dovuti ad abuso di bevanda alcolica. Codonopsis è un antidiarroico, ha un'azione protettiva nei confronti delle radiazioni da terapia, è un antiastenico e un antiasmatico. La somministrazione di codonopsis è sconsigliata in gravidanza durante l'allattamento, durante le cure per la fertilità e in pediatria. Questo perché non sono ancora chiare le interferenze in questi particolari momenti della vita. Le interferenze invece con i farmaci sono più determinate e conosciute. Non può essere somministrato codonopsis senza correggere dosi quando il paziente assume aspirina, anticoagulanti, antiaggreganti piastrinici e antiinfiammatori non steroidei. Attenzione anche all'uso concomitante di rimedi lassativi, antiacidi o antireflusso. Adatogeno è un termine da non confondere con gli stimolanti psicotropi connessi all'uso di chimica o farmaci in campo militare. La guerra è divenuta con il primo conflitto mondiale una questione chimica. La chimica è stata utilizzata per indurre un danno nelle linee nemiche, è stata utilizzata per riparare un danno chimico nelle proprie linee, ma è stata soprattutto utilizzata per stimolare comportamenti disumani nelle proprie truppe. Gli stimolanti psicotropi più utilizzati in guerra sono stati e sono le anfetamine e la cocaina. Essi non sono da confondere con il termine adatogeno utilizzato in fitoterapia. La parola adatogeno è in relazione alla sindrome di adattamento generalizzato a stress o gas studiata dal dottor Sely. Un adatogeno migliora l'adattamento e non deforma la personalità del soggetto a cui viene somministrato. La sindrome di adattamento generalizzato a stress prevede tre differenze e fasi. Dopo l'induzione dello stress si assiste a una fase di allarme dove il soggetto aumenta la sua performance psicofisica. Raggiunto un massimo livello resisterà in questa posizione di aumentata performance. In una terza fase esaurisce la sua capacità di mantenere l'elevazione della performance. Questa terza fase è chiamata la fase dell'esaurimento. Dunque nella sindrome generalizzata a stress si osserva una fase di allarme, una di resistenza e infine una di esaurimento. La differenza tra un adattogeno e uno stimolante psicotropo o droga è enorme. Un adattogeno aumenta la performance ripristinando al termine della somministrazione uno stato più elevato dell'omeostasi di partenza. Un stimolante psicotropo stimola altrettanto ma al termine della stimolazione il soggetto ha una potente coda astenica e permane un effetto tossico o dipendenza associata alla somministrazione. Dunque la differenza tra un adattogeno e uno stimolante è enorme. La potente coda astenica dello stimolante non è presente nella somministrazione di adattogeni e gli adattogeni somministrati non hanno effetti tossici, non inducono dipendenza, non deformano la personalità del soggetto. L'indicazione per un adattogeno ovviamente è la malattia stress correlata. Questa categoria di malattia ha enormi quadri clinici. Praticamente nella slide sono elencati soltanto alcuni dei più frequenti. Un adattogeno fitoterapico quando correttamente prescritto migliora la risposta adattativa stress e migliora la risposta clinica alla terapia di malattie stress correlate. Bene, per un approfondimento delle caratteristiche della codonopsis pilosula si invita alla lettura dell'articolo completo su www.agoculturablog.it. L'uso invece di codonopsis come medicinale è da riservare a una corretta relazione medico-paziente. Il presente video è informativo e non vuole favorire in nessun modo l'autoprescrizione. Bene, siamo arrivati alla fine del video di oggi. Vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare un like. Se cliccate anche sul campanellino otterrete un avviso quando pubblico nuovi video. Bene, vi ringrazio della visione e spero di rivedervi presto sul canale. Arrivederci!